Con il nino Schiavi al primo assist ai professionisti è stato decisivo il tuo contributo, eri in campo da circa 25 secondi ma sei subito entrato bene in una gara difficile. No, sì, io quando sono entrato in campo sapevo che dovevo fare del mio meglio, lasciare tutto per far bene, per fortuna la palla è rimasta lì, l'ho messo in mezzo e ha fatto il gol, quindi sono contento per questo. Sono più contento per la vittoria della squadra. Poi un asse tutto argentino perché Gonzales ha provato a ridarti quel cioccolatino che tu gli avevi in precedenza regalato, è arrivato, il tuo tiro forse è stato troppo bello perché l'hai colpita piena, è andata sul palo interno, tutto lo stadio ha gridato gol, forse anche tu. Paolo ha fatto una giocata incredibile, mi ha lasciato da solo davanti al portiere, ho calciato per sfortuna, non so perché, è andata al palo, però ci saranno altre occasioni, spero di la prossima riuscire a fare gol. A inizio stagione avevi detto che non ti aspettavi di giocare così tanto, forse nessuno che non ti conosceva avrebbe potuto pensare questo, però ti stai confermando e diciamo che sei a tutti gli effetti un elemento importante di questa squadra. Non lo so se è importante, credo che siamo tutti importanti nella squadra, chi scioga, chi non scioga, chi entra o chi è in tribuna, ma penso che lo importante è lavorare piano piano, giorno dopo giorno per migliorare e migliorare tutti i giorni.